Ti hanno dato un'apertura di credito credo perché non si può pretendere miracoli con una squadra che era miracoli da subito nessuno li fa, miracoli poi non li fa nessuno, soprattutto poi con una squadra dimezzata perché erano impegnati in nazionale e perché il calendario presenta subito la Roma. Con questo non bisogna cercare scusanti. Voglio dire che in ogni caso sapendo che il cammino è duro e difficile e che la situazione trovata era altrettanto difficile domani è lecito vedere qualcosa di meglio nell'atteggiamento, nel comportamento dei giocatori. Sono tutte sicuramente considerazioni utili ma che non appartengono a me perché di solito io non mi concentro sulle difficoltà ma mi concentro su come posso risolvere alcune situazioni. Sono state un paio di settimane, quindi non molti allenamenti perché poi c'era una sosta di mezzo con impegni chiaramente già precedentemente presi, sicuramente 11 nazionali in campo ma questo ce l'hanno un po' tutte le squadre, è una difficoltà relativa. Diciamo che c'è stata un'opportunità da una parte che è quella di poter conoscere un gruppo di giocatori più ristretto nella prima parte e nella seconda parte insomma i giocatori si conoscono ma quello che vi ho sempre detto per me è importante conoscerli personalmente e stabilire delle relazioni. Questo è stato possibile, la cosa andrà avanti nel corso dei giorni e quindi non è che mi preoccupo se ci sono stati poco o molto, mi preoccupo subito e mi sono occupato soprattutto di dare la mia filosofia di gioco chiaramente nei principi base perché una filosofia di gioco poi tiene conto di molti dettagli che sono quelli che poi fanno la differenza. Buongiorno mister, proprio riguardo all'ultima considerazione che ha fatto, quali sono i tre concetti se possiamo sintetizzarli così che ha chiesto la squadra per questa partita perché chiaramente ci sarà del lavoro da svolgere ma si parte sempre da delle fondamenta. Quindi i tre concetti poi le chiedo anche a profitto come ha trovato i nazionali se c'è qualche defezione nell'ultima ora. Intanto grande attenzione, grande disponibilità ad applicare ciò che abbiamo preparato in questo periodo e questa è la nostra responsabilità, io voglio vedere questo. Poi chiaramente non sarà tutto perfetto ma uno dei concetti fondamentali è che l'errore per noi non deve essere vissuto come una tragedia ma come un percorso migliorativo e necessario proprio all'apprendimento di una metodologia diversa e di una filosofia di gioco diversa rispetto alla precedente. Quindi da questo punto di vista grande disponibilità, grande attenzione è un concetto di squadra. Io voglio vedere già una squadra che sappia che l'errore c'è ma si può rimediare come squadra, che non saremmo perfetti ma si può limare questo gap con la possibilità di mettere dentro passione, attenzione, coraggio, consapevolezza di quello che si è svolto durante l'allenamento e in questi giorni di allenamento. Sui nazionali finisco, sono tornati chiaramente come tutti i giocatori che stanno in giro per il mondo, per le nazionali è chiaro che poi ci sono alcune situazioni di cui tenere conto, fuso orari, situazioni legate magari a impegni e quindi abbiamo la fortuna di avere uno staff molto molto preparato che ci dà la possibilità di monitorarli costantemente. Quindi siamo sempre stati in contatto e nella considerazione specifica del mio caso ho potuto vedere che sono rientrati con uno stato di forma mentale curioso di voler mettersi subito a disposizione per me questo è molto importante. Buongiorno Mr. Pertol di TPN, volevo fare una domanda che non la prenda come una provocazione ma una curiosità lei è l'ottavo allenatore che arriva nelle ultime quattro stagioni a Udine l'ultimo Velasquez che è stato sostituito era riuscito a dare anche un certo gioco alla squadra perché se poi l'attaccante non segna non è che la responsabilità sia di Velasquez quindi si era rivisto qualcosina insomma che non si vedeva da diverso tempo ecco lei l'attaccante non ce l'ha come non ce l'aveva Velasquez cosa ritiene di dare in più oppure le formula domanda in maniera diversa? Tatticamente pensa di cambiare le cose perché comunque la squadra è quella. È chiaro che si parte da una situazione di conosciuto quando ogni volta che c'è un cambio c'è un adattamento ad un modo di lavorare diverso e ha principi e idee diverse si parte da ciò che possa contribuire a far sì che la squadra possa già prendere i nuovi principi e la nuova filosofia senza stravolgere qualcosa che poi diventerebbe anche di difficile controllo nel corso del tempo e quindi si tratta di fare un'analisi il più dettagliata possibile sulle qualità e le caratteristiche dei giocatori a disposizione e cercare di chiedergli quei due o tre concetti che chiaramente non sto qua a dirvi perché sennò aiuteremo inevitabilmente anche altri il nostro intento questo. Nel tempo ve ne accorgerete ci sarà la possibilità di parlare di molte cose specifiche a livello tecnico-tattico. Dal mio punto di vista la filosofia del gioco è molto organizzata per me contano gli spazi, contano la relazione tra i giocatori, tra i reparti che deve essere conosciuta e deve essere rispettata per poter produrre le condizioni migliori di essere aggressivi, di essere propositivi ma allo stesso tempo di poter anche avere quell'equilibrio che è fondamentale in qualsiasi modo che si stia in campo o si decida di stare in campo. Buongiorno mister, riguardo la Roma che gara si aspetta da parte dei giallorossi che sono alle prese anche loro con i tanti nazionali come diceva lei un problema un po' di tutte le squadre non ci sarà Manolas, probabilmente faranno un po' di turnover in vista della gara con il Real Madrid ma soprattutto l'Udinese ha avuto delle difficoltà contro le grandi sino a questo momento però al tempo stesso la Roma dopo le soste e prima della Champions ha lasciato diversi punti per strada quanto crede che questo fattore possa incidere sulla partita? Grazie Come considerazione generale nell'andamento di un campionato può avere una valenza i comportamenti più si manifestano in questo caso magari il nostro e quello loro più possono essere considerati veri ma in una singola partita e quando ci sono dei cambiamenti profondi questo può valere o non valere forse diventa anche fine a se stesso al di là della Roma che secondo me ritengo essere una tra le squadre che ovviamente è impegnata per poter giocare su più fronti e ha dei livelli a top level credo che non abbia sicuramente difficoltà a trovare nel turnover giocatori importanti per poter creare problemi a chiunque noi siamo nella condizione però e questo a me interessa i miei giocatori non devono pensare al risultato il risultato è una cosa mia loro devono pensare ad applicare quello che io ho chiesto perché ritengo lo possono già fare e dimostrare non saremmo perfetti non ci interessa neanche essere perfetti in questo momento perché la parte più importante diventa il concetto di essere una squadra a tutti gli effetti dentro o fuori dal campo non che questi non lo siano ma per il mio concetto di essere squadra sono d'accordo su quest'ultimo concetto anche per non responsabilizzare troppo la squadra abbiamo parlato, ho sentito dire in questi giorni ma quello sta così, quell'altro chi è che domani non c'è? perché non abbiamo una lista ancora di convocati ma la lista di convocati è stata compilata quindi verrà diramata no ma chi è? tanto per parlare adesso siamo in 22 quindi non è che c'è problematica Barak ce la fa? noi abbiamo la fortuna come vi ho detto prima e questa per me è una grandissima risorsa cosa che non mi accadeva in molti altri contesti di poter avere monitorato il giocatore quindi se ho bisogno che un determinato giocatore faccia un particolare percorso di recupero e so di poter contare su di lui allora io aspetto, mi sono coordinato con questi staff e per me diventa molto importante poter convocare magari anche all'ultimo un giocatore quindi le decisioni finali vengono prese sostanzialmente dopo il nostro debriefing finale che è quello di stasera sentimi, se arrivare in corso non è mai facile l'altro il mio collega prima perché devi buttare dentro un po' tutto le tue conoscenze e anche la tua volontà quindi sotto aspetto atletico, tattico tecnico dei giocatori domani c'è una parete importante per te anche un piccolo esame perché dopo due settimane di lavoro vai a vedere appunto il risultato cos'è che ti aspetti? Cioè cos'è che tu domani vuoi assolutamente vedere? Perché vorresti vedere un po' tutto chiaramente però qual è il primo aspetto che tu domani vuoi vedere della tua squadra? Il mio concetto di essere squadra il mio concetto di essere squadra che ho trasferito ai giocatori per me è fondamentale quello e quindi tutti quegli atteggiamenti comportamenti comunicazione che io ritengo fondamentale per essere squadra chiedo una grande applicazione chiedo una consapevolezza in ciò che gli è stato proposto è chiaro che non gli è stato proposto molto perché avremo un affaticamento del sistema nervoso centrale immediato di tutti i giocatori non è il nostro intento questo però è altrettanto vero che ci sono due o tre concetti che vogliamo esprimere perché crediamo riteniamo che possono essere e possono fare la differenza tutto il resto è un dettaglio e sui dettagli serve il tempo per poterci lavorare ma se c'è la volontà e la passione di andare oltre ogni limite personale perché è il primo concetto di vittoria che io ritengo e quindi migliorare se stessi prima di pensare di battere un avversario partiamo da noi e dimostriamo che abbiamo lavorato su alcuni concetti poi le due settimane sono relative perché come sapete noi tutti pensiamo che in una settimana di sosta ci sia più tempo per lavorare ma a causa nazionale in situazioni varie c'è il tempo che c'è il tempo ma a me non interessa non mi interessa spostare l'attenzione su ho avuto una difficoltà qua ho avuto non mi interessa proprio niente a me interessa andare oltre le difficoltà e concentrarmi sui pregi buongiorno mister l'anno scorso l'uomo chiave per la salvezza fu lasagna e molti si aspettavano che quest'anno ripetesse la precedente cosa che non sta accadendo perché sta sbagliando molto sotto rete e adesso è stato in nazionale e anche in nazionale è stato criticato dalla stampa nazionale volevo chiederle in questi due giorni in cui l'ha avuto lei a disposizione come lo ha visto mentalmente in allenamento chi fa il nostro lavoro la critica è dietro l'angolo sta a noi sta a noi come consapevolezza come personalità come sviluppo della personalità riconoscere le critiche costruttive da quelle manipolative non è che se un giocatore un professionista un allenatore che guida o gioca in una squadra di serie A si preoccupasse di alcune critiche fanno parte del gioco tu devi avere il tuo percorso ben delineato essere consapevole di quello che sei delle qualità che hai e di ciò che ti manca quindi delle aree di miglioramento per poter migliorare Lasagna è un ragazzo fantastico uno che si impegna in tutti gli allenamenti è arrivato in nazionale quindi stiamo parlando di massimo livello qui abbiamo anche dei rappresentanti passati di chi è stato in un contesto del genere e mi sorprenderebbe se uno non ricevesse critiche si fa gol siamo tutti più belli più bravi non si fa gol sembriamo tutti un po' meno bravi un po' meno belli ma quello che importa secondo me è il fatto che Lasagna debba avere un ambiente a disposizione una collettività che ne possa in qualche modo sfruttare le caratteristiche perché ha precise caratteristiche e stare sereno e tranquillo niente di più tutto il resto verrà per me non conta il singolo giocatore nonostante il singolo giocatore abbia delle qualità importantissime per la squadra ciò che conta è il collettivo se impariamo a usare questo termine a tutti i livelli secondo me è molto più semplice arrivare a una certa ideologia e quindi una certa possibilità di dimostrare di essere squadra su tutti i fronti un giorno mister ha già parlato della Roma però le volevo chiedere se c'è qualcosa in particolare che teme della squadra di Eusebio Di Francesco ma temere è un concetto che non mi appartiene nel senso che in ogni scontro io mi concentro molto di più sul battermi bene che non il temere un avversario è chiaro che hanno giocatori e sono una realtà di grande esperienza a tutti i livelli e con giocatori determinanti ma vuoi mettere il piacere il gusto di battersi bene contro un avversario di dimostrare che probabilmente nel tempo anche io posso raggiungere quei livelli lì il concetto di temere lo trovo forse un po' limitativo per la crescita mentale di ognuno di noi ecco ti chiudo proprio questa domanda qua visto il momento tuo che sei appena arrivato ti sei molto più concentrato sulla tua squadra sui tuoi concetti e quindi la Roma si può considerare tra virgolette una variabile oppure avete studiato molto bene anche la Roma perché il tempo è stato veramente molto molto limitato per poterla preparare questa partita la cosa importante è stato in qualche modo definire delle priorità questo abbiamo fatto questo abbiamo portato in campo e quindi tutte quelle esercitazioni che non sono decontestualizzate da un principio tattico fisico mentale tutto è indivisibile e quindi è fondamentale che il giocatore arrivi nella condizione di pensare chi è chi vuole essere dove è dove vuole arrivare secondo me questo è fondamentale e tutto il resto viene proposto in funzione di poter in qualche modo ripetere determinate esercitazioni determinati concetti nel corso del tempo per poter ottenere un apprendimento più immediato e non sarà sicuramente ancora un automatismo ma ci arriveremo ci arriveremo e c'è un'unica formula non c'è io non sono un mago è vero che ho dovuto fare l'alchimista in questo momento per un discorso legato ad altre situazioni ma secondo me il lavoro è la reale forma di libertà è quello che ti rende libero e consapevole della tua forza delle tue possibilità ultima domanda buongiorno mister lei ha avuto modo di relazionarsi con i giocatori che erano qua quindi tra questi c'era Viseo un giocatore che noi di fatto non conosciamo perché l'abbiamo veramente visto poco per cui le chiedo una sua opinione sul brasiliano che dovrebbe potrebbe essere utile penso alla sua squadra chiunque qui deve essere utile ma deve essere utile nella propria testa come mentalità ogni giocatore deve pensare io sono un giocatore da Udinese e voglio giocare nell'Udinese se non c'è questa precisa consapevolezza si perde del tempo le perdono loro ne perdiamo noi quindi io considero tutti e l'opportunità che vi dicevo riguardo al fatto che magari uno possa pensare non ho avuto i nazionali è stata una grandissima opportunità perché ho potuto davvero passare del tempo con dei giocatori che sono stati più tempo con me quindi conoscerne anche in parte non sono un mago quindi non posso conoscere in cinque giorni perfettamente un mio giocatore ma la strada è stata questa e ritengo che Felipe sia un giocatore che debba continuare a lavorare come ha dimostrato a me in questi giorni che il suo tempo viene e arriverà se non già domani perché credo che questa sia la gratificazione più grande tu concedi il tuo tempo per la tua crescita e per inserirti all'interno di una squadra io quando ti ritengo pronto ti do la tua opportunità poi per me conto al campo tutto il resto sono chiacchiere grazie a tutti